Ieri sera intorno alle 11 qui in località Olmo presso il Circolo Arci dove c'è anche il locale Trocadero Aaron Catalin, un giovane rumeno campione di full contact è stato accoltellato a morte. La vicenda è iniziata proprio alle nostre spalle dove aveva parcheggiato la sua Audi di grossa cilindrata targata Romania e sembra che almeno tre persone di origine pare albanese con armati di bastoni abbiano aggredito rompendo i vetri della macchina. I tre albanesi avrebbero inseguito poi il ragazzo rumeno ferendolo, il ragazzo poi è scappato giù in direzione del Circolo Arci inseguito da queste persone, le grida hanno richiamato tutte le persone che erano qui per vedere la partita ieri sera si giocava le partite di Champions che sono uscite per vedere quello che stava succedendo. Dopo averlo accoltellato lo hanno inseguito portando il ragazzo che ha cercato scampo prima verso la ringhiera e poi verso il parcheggio alla fine si è accasciato dietro questo furgone dove possiamo vedere ancora le macchie di sangue e l'intervento del 118 il ragazzo era in condizioni gravissime, alle persone che sono accorse ha raccontato che erano stati degli albanesi che erano anche armati di pistole. Sono uscito quando ho visto quello barco all'alto, non mi sono curato più di tanti, è arrivato per il furgone fra quel furgone e quell'ape che non l'ha fatta portare via la scientifica proprio apposta si è appoggiato lì e ho detto ma che fa... e io quando ho visto che doloranti mi sono avvicinato non troppo vicino e gli ho detto scusa ma che fai ti senti male? si è accasciato al suolo e ho detto oddio mi ha dato una coltellata. e non è chiaro il motivo per cui queste persone si siano... abbiano aggredito Catalin e soprattutto quale sia stato l'evento scatenante di questa tragedia il ragazzo poi è morto all'ospedale ma era già in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato e percosso per vari minuti anche qui davanti a molte persone che sono state testimoni oculari di questo gravissimo fatto di cronaca.